Musica E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo di talebani napoletani Siamo arrivati al fine anno 2014 Insieme, videogioco dopo videogioco, divertendoci video dopo video Colgo l'occasione per ringraziarvi tutti per essere sempre più numerosi, curiosi ed interessati in modo incredibile al mondo dei videogiochi E si sta trasformando in una macchina di business sempre più complessa, più articolata Ma questo non è il posto giusto per parlarne Intanto, anzi, principalmente, sono qui per augurarvi un buon inizio anno nuovo 2015 Auguroni ragazzi, tanti auguri e grazie per essere stati qui, sempre con me Restate sintonizzati sul canale perché quest'anno 2015 è un anno eccezionale Ci sono grandi novità videoludiche come GTA 5, come Evolve, come tanti altri titoloni che andremo ad analizzare e scoprire Insomma, buon anno nuovo e a presto per nuove recensioni e gameplay divertentissimi Con questo è tutto Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani Grazie a tutti